Siamo a Rialto Occupato, a Roma, al centro di Roma, pochi passi dal ghetto, da Bottego Scure. Siamo a sei anni della vittoria del referendum sull'acqua, siamo insieme a Paolo Carsetti del Forum Italiano per l'Acqua Pubblica. Oggi è una giornata particolare, oggi il Rialto è sgomberato e il Forum dell'Acqua non ha più una sede. Perché? Cos'è successo? È successo che a partire ormai dal 2015 sono iniziati ad arrivare una serie di lettere da parte dell'amministrazione comunale, già quando c'era l'amministrazione Marino, l'aggiunta Marino, però poi lo sgombero vero e proprio è avvenuto il primo a metà febbraio e poi noi siamo rientrati, abbiamo riaperto questo spazio alla città una settimana dopo e poi definitivamente lo sgombero è arrivato il 9 maggio, con un intervallo di tempo in cui l'amministrazione Raggi si è praticamente dileguata perché si era avviato un confronto per trovare una soluzione, quindi una sede alternativa alle realtà qui presenti, ma di fatto l'amministrazione non ha voluto, non ha manifestato la volontà di trovare una soluzione che potesse far proseguire le attività che per anni si sono svolte qui, fino a arrivare ad uno sgombero senza nessuna comunicazione e addirittura con una strategia direi abbastanza assurda perché proprio l'8 maggio, quindi il giorno prima dello sgombero, ha pubblicato un avviso di bando pubblico sul sito del comune di Roma Capitale, un bando per un luogo sequestrato dalla criminalità che poteva essere dato in concessione a realtà che si occupano di acqua e beni comuni. Quindi un bando fatto quasi su misura su di voi? Molto probabilmente, l'amministrazione era stata avvertita che il 9 ci sarebbe stato lo sgombero e per costruirsi un alibi, un alibi tra virgolette perfetto dal loro punto di vista, pubblicato questo avviso di bando che noi abbiamo rigettato, rispedito al mittente perché non intendiamo sottostare a ricatti ma non intendiamo neanche sottostare a una logica che è quella dei bandi create DOC che negli anni passati hanno costruito scandali come mafia capitale. Noi eravamo pronti ad uscire anche da questo spazio laddove si fosse trovata una soluzione che avesse potuto permettere la continuità delle attività. La Giunta Raggi non ha assolutamente voluto raggiungere questo obiettivo che era un obiettivo molto molto semplice. Ricordiamo che questa era la sede nazionale del Forum Italiano per l'Acqua dove si è animata la campagna per il referendum, per la raccolta di firme sulle leggi d'iniziativa popolare, per tutte le iniziative sull'acqua. Il Movimento 5 Stelle in teoria dovrebbe essere parte di questa battaglia per l'acqua, in realtà si sta comportando come esecutore di una chiusura. Sì, diciamo che il Movimento 5 Stelle è stato un movimento che ha sostenuto il referendum, che ha sostenuto attraverso prima quelli che si chiamano i Meetup tutto il percorso del Movimento per l'acqua, molto onestamente e legittimamente. Nel momento in cui è arrivato a governare la città come Roma invece secondo noi ha disconosciuto la propria storia, la loro prima stella che era quella dell'acqua pubblica, perché ancora ad oggi non vediamo un'azione, un'iniziativa amministrativa che vada nella direzione della gestione pubblica dell'acqua a Roma, ma vediamo lo sgombro del Forum dell'Acqua e vediamo un annuncio come quello fatto da un consulente proprio chiamato a riorganizzare le partecipate di Roma Capitale che dimostra l'intenzione addirittura di vendere le quote di partecipazione del Comune in Aceato 2 che è l'azienda che gestisce l'acqua a Roma, quindi addirittura non la mancata applicazione dell'esito referendario, ovvero la gestione pubblica dell'acqua, ma addirittura andare a rincorrere le privatizzazioni che centrodestra e centrosinistra hanno messo in campo in questi ultimi 20-30 anni. Questo era un luogo non solo vostro ma di tante altre associazioni che con voi sono state cacciate da questa realtà, una desertificazione della città oltre che un fatto politico generale, insomma nazionale. Beh sicuramente, questo è stato un luogo che per come appunto si manifesta è un luogo che ha permesso anche lo svolgimento della campagna referendaria per come l'abbiamo conosciuto. Un luogo centrale dove ormai è un centro che è solo a disposizione dei turisti, è un centro a Sidoni per svolgere attività di convegno, di mostre, concerti, riunioni. Qui abbiamo fatto appunto la raccolta firme, è stato il magazzino di tutta quella montagna di firme raccolte nel 2010 per il referendum e lo abbiamo fatto anche e soprattutto in sinergia con le realtà qui presenti. Ognuno anche rispetto a quella battaglia ma noi rispetto ad altre hanno messo un pezzetto della loro esperienza a valore e in comune per la collettività. Chi sgombera posti del genere dimostra lottusità rispetto al fatto che queste dovrebbero, queste realtà e le attività che si svolgono in questi spazi dovrebbero essere appunto la vera ricchezza da tutelare. Lo si fa solo a parole ma poi invece nei fatti ecco quello che abbiamo di fronte oggi un traslogo a seguito di uno sgombero e questo rimarrà molto probabilmente l'ennesimo edificio vuoto a Roma con l'aggravante che era un edificio che invece era vissuto, animato e che avevamo contribuito anche a mantenere nel tempo. La vostra battaglia però non si ferma, avete altre iniziative per i prossimi giorni. A parte quello che farete in futuro avete qualche rammarico di non aver fatto delle scelte in passato che potevano andare a affrontare i problemi che oggi si manifestano diversamente? Diciamo rammarico no, è evidente che oggi registriamo un rilancio dell'attacco nei confronti dei beni comuni e anche dell'acqua. L'esito leferendario è stato un punto di svolta però ci siamo resi conto che si era toccato appunto un interesse molto più grande di noi nonostante la mobilitazione straordinaria che c'era stata. Interessi economici che però hanno manifestato una complicità tra interessi politici ed economici e questo ci ha fatto capire che appunto su certe questioni nonostante 26-27 milioni di persone siano andate a votare ecco non si può toccare il mercato perché il mercato ormai come viene detto è una sorta di dominus o dio che governa la società. Crediamo che questo percorso e questa storia abbia dimostrato più di tanto altro una degenerazione che si è palesata negli ultimi anni però appunto il nostro obiettivo è quello di non arrenderci e continuare a dar battaglia proprio perché noi vogliamo in primis che l'acqua ma che tutti i beni comuni siano titelati in quante tale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!